Non si insisterà mai a sufficienza sui danni esiziali prodotti in Italia dal partito radicale segnatamente da Marco Pannella e da Emma Bonino. Si tratta di una cultura politica che si è venuta affermando sempre più e che di fatto ha egemonizzato lo spazio politico e culturale delle sinistre. Di più ha contribuito a ridefinirne integralmente il profilo sull'onda lunga del 68 come rivoluzione colorata del capitale, o più precisamente come rivoluzione mediante la quale non si è prodotta l'emancipazione dal capitalismo bensì del capitalismo, il quale si è venuto ridefinendo a partire dal 68 nelle forme oggi imperanti, ossia della società self-service libero-individualistica con liberalizzazione integrale dei costumi e dei consumi, dove tutto è possibile per l'oltreuomo postmoderno a volontà di potenza nicciana illimitata di marca consumistica. Il partito radicale ha svolto da questo punto di vista un ruolo fondamentale nella misura in cui, secondo la profezia compiutamente serializzata di Augusto del Noce, ha di fatto egemonizzato lo spazio politico della sinistra che è divenuta un partito radicale di massa. Così diceva Augusto del Noce in tempi non sospetti. Si è prodotto quello che egli stesso definiva in un suo importante saggio il suicidio della rivoluzione. Le sinistre hanno abbandonato completamente il loro profilo marxiano, leniniano e gramsciano di lotta per il trascendimento del capitalismo, di conflitto di classi a beneficio delle classi dominate e subalterne e a nocumento delle classi dominanti. Abbandonato questo profilo, la sinistra si è riadattata ai rapporti di forza dominanti, difendendoli e diventandone l'ala sinistra, nella misura in cui ha accettato il codice antropologico del nuovo capitalismo di tipo liberal-libertario individualistico, nemico di tutto ciò che ostacola il progresso, cioè l'avanzata modernizzatrice del capitalismo stesso, che nella sua marcia, declaritate in claritate, dissolve tutto ciò che possa resistergli, ogni forma del limite in grado di porre un argine all'avanzata ogni avvolgente del capitalismo stesso. Il partito radicale questo è stato, un partito di legittimazione integrale dell'avanzata del capitalismo e di adeguamento legittimante delle sinistre che sono divenute se stesse un grande partito radicale di massa. Tutte le grandi battaglie del partito radicale sono sempre state le battaglie individualistiche del nesso di forza capitalistico. Vuoi in nome della liberalizzazione integrale delle droghe, vuoi in nome del libero aborto individualizzato, vuoi in nome dei diritti civili, ossia ciò che solo oggi appare compiutamente, dei capricci individualistici delle classi possidenti senza frontiere. In quest'ottica il partito della Bonino e del Fupannella rappresenta essenzialmente l'ala liberal-libertaria del capitalismo, l'ala anarchica e sinistra che oggi compiutamente converge con quella del vecchio partito comunista italiano glorioso di Gramsci, nel frattempo suicidatosi, secondo la diagnosi di Del Noce, è divenuto un partito individuale di massa, radicale, che fa sue istanze puntualmente in difesa del capitalismo e della libertà individuale, intesa essa stessa come libero consumo libertario individualizzato, privo di ogni limite e privo di ogni debita considerazione del nesso sociale e della lotta delle classi dominate, che vengono completamente obliate dalle sinistre e che anzi vengono puntualmente diffamate con la categoria di populismo, mediante la quale la sinistra stessa diffama e ostracizza tutto ciò che rievochi anche solo in maniera tenue l'esistenza di un popolo che non aderisce al programma della mondializzazione cosmopolitica, che è il tablò de bord delle classi dominanti e che invece voglia ancora salari dignitosi, un posto di lavoro fisso e la possibilità di istituire una famiglia stabile. Tutto questo viene derubricato dalle sinistre divenute partito radicale di massa come populista, xenofobo, retrograde e troglodita anche. Ecco, la Bonino ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale in questo. Prova ne è che di fatto l'ala del partito radicale Bonino e l'ala delle sinistre divenute il braccio armato e divenuta una schiera di araldi del nesso di forza capitalistico convergono pienamente. Le sinistre oggi sono integralmente boniniane nel loro spirito, abbracciano integralmente il partito radicale oggi divenuto, per ironia della storia, più Europa. Un nome che in realtà è una minaccia, ancora prima che un nome, stante il fatto che l'Unione Europea è stata l'unione delle classi dominanti europee contro le classi lavoratrici europee, ancora una volta pienamente in coerenza con il dettato dello spirito del partito radicale. Ecco, da questo punto di vista possiamo dirlo senza tema di smentite, senza ambagi, il partito radicale della signora Bonino ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale nella legittimazione dei rapporti di forza così come sono e nella delegittimazione di ogni vera contestazione anticapitalistica che muova dalle istanze delle classi lavoratrici oppresse, che faccia valere la priorità assoluta dei diritti sociali e del lavoro e che metta in primo piano la contestazione dell'ordine capitalistico, del cosmo a morfologia mercatistica in vista dell'oltrepassamento di quest'ultimo e dell'instaurazione di rapporti tra individui ugualmente liberi. Ciò che totalmente viene obbliato dalla signora Bonino che sempre più è l'emblema della sinistra cosmopolitica nemica di Marx e di Gramsci e amica, assai amica, delle classi dominanti no border che sono a se stesse di sinistra nell'ambito dei costumi e di destra nell'ambito dell'economia, se volessimo mantenere ancora questa ormai logora categoria dicotomica e oppositiva tra destra e sinistra, che tuttavia non ha alcun senso nella misura in cui destra e sinistra oggi dicono essenzialmente il medesimo, rapporto di forza capitalistico con destra liberista del danaro e sinistra libertaria del costume che legittimano sia pure diversamente il medesimo, sia il nuovo ordine mondiale globalista con centralità assoluta della merce e con disumanizzazione integrale dei rapporti umani mercificati anch'essi.